Come stai? Tutto bene? Sei contento di essere a Firenze? Sì, contento. Qualche anni fa avevo potuto venire e è stato il destino. Sono arrivato oggi e sono molto contento. Bella città, piazza che avevo sempre avuto piacere a giocare, quindi non vedo l'ora di iniziare. È l'occasione più grande della tua carriera? Possiamo dire sì, perché la squadra con i tuoi nomi è una squadra importante. Adesso più giovane, più giovane, più qualità, un stadio così importante. No, veramente sono contento. Si è fatto oggi, vuol dire che era il destino. Sì, adesso io sono pronto, sono contento di essere qua, passo la visita in Medica e poi andrò a lavorare. Hai già studiato un tatuaggio per festeggiare? Ah, c'è ancora un po' di spazio per farlo, anche se mia madre adesso mi ha detto di calmare un po', però sì, uno troverò qualcosa da fare. Senti, sei pronto anche per fare da maestro, diciamo ai tanti giovani che ci sono? Sì, sì, no, ma io sono arrivato, mi hanno parlato la società, il mister, sanno cosa aspettano di me e non sono venuto qua per fare il maestro, però è chiaro che ho adesso una certa esperienza e c'è tanti giocatori giovani, di qualità e a quelli diciamo più vecchi, anche se sono arrivati a noi da trascendere quello che serve per far bene il gruppo e per far crescere.